Questo programma è fighissimo, il più figo del mondo, vi divertirete come i pazzi, quindi buona serata. È rimasto soltanto il golden di Joe, eh? Joe non si accontenta mai. Forse cerca veramente qualcosa di forte che lo colpisca. Let's go again! Ah, let's do it! Sai che mola! A pata posta. Don't stop me Eh, 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 eh! Sì, no. Sì, no. Non ho capito il senso della cosa. Io dico sì. Guarda, per me è no. Però sei un bel rompiballe. Non ti cazzare, Mara! Non sono d'accordo. La gente è poco seria. È soggettivo. Adesso devi tirare la tazza, eh? Basta! Va bene. Era bravo o no? Sì. C'era del talento? Sì. E allora? Ah, putto, cosa cazzo vuoi? Io canterò, però non una canzone, io canterò la mia voce. Sì. Bene. Tanto talento sul palco. Molto talento. Fai un decreto convuotem. Toma, la te di 70 anni Mi guardò, si girò e mi diede uno schiaffo a mano aperta dietro la testa che mi rindronò tutto il cervello Oh babbo, ma che so fatto? Dice, vedi, Pier Massimo, io ti avrei potuto dire sta zitto, ma tu avresti continuato a parlare Ma insomma dovremmo essere più oculati. Hai ragione ma No Il ballo fatto con quell'occhio sempre occhiolino degli indiani che hanno quel senso di gurismo Fantastico fanno le cose perfezione ma c'è sempre il spazio per quel sorriso avete catturato proprio quella cosa lì che è super ballywood Bravissimi grazie di cuore Oi, Hero, so you think you can dance, eh?